Siamo molto molto contenti perché siamo riusciti con pochissime risorse a creare comunque un cartellone di tutto rispetto come piace a noi. Abbiamo adesso prossima settimana il concorso internazionale di canto lirico che è proprio il cuore pulsante di questo progetto che accoglie ragazzi giovani o comunque che si affacciano per le prime volte palcoscenici da tutto il mondo. L'anno scorso abbiamo avuto 43 partecipanti provenienti da diverse nazioni, dall'America, dal Messico, dalla Cina, dalla Corea. Ci ospiterà il conservatorio Gaetano Braga qui a Teramo, quindi siamo molto molto felici e onorati. Stiamo quindi affinando in questi giorni le partecipazioni. Il festival parte con il concorso lirico, quindi Teramo eliminatorie e semifinali e poi la finale sarà a Ripattoni di Bellante il 24 alle ore 21 e avremo tanti cantanti che animeranno con la loro presenza e le loro voci il borgo di Ripattoni e il centro storico di Teramo. I vincitori si esibiranno poi invece il 25 a Giulianova in Piazza del Mare. I ragazzi vinceranno dei premi in denaro e abbiamo quest'anno la collaborazione e il sostegno della Fidas, donatore di sangue di Teramo e di Giulianova. Il cartellone poi va avanti con altri eventi. Il 4 agosto siamo ancora a Ripattoni nel Teatro Saliceti con Giovani Promesse della Lirica. Proseguiamo il 9 agosto, torniamo nelle zone boschive in un luogo magico che è il santuario della Madonna della Tibia dove avremo un quartetto di trombe che accompagnerà la voce solistica del tenore Nunzio Fazzini. Chiuderemo la nostra rassegna il 13 agosto e Giuseppe Verdi sarà il protagonista dell'ultimo evento per un concerto per soprano, tenore e pianoforte con le più belle arie verdiane, celebri duetti e concluderemo appunto con un brindisi musicale, quello di Traviata, il nostro cartellone.